L'agricoltura è uno di quei settori cruciali da ripensare in modo serio e su cui scommettere per lo sviluppo della Basilicata. Così la pensa il presidente della terza commissione consigliare permanente Pietro Antuono, che ha salutato favorevolmente il sì del Consiglio regionale al disegno di legge che internalizza le funzioni dell'Arbea, auspicando uno stesso celere processo di riforma anche per l'Alsea e i consorsi di bonifica. L'approvazione del disegno legislativo, ha dichiarato Pietro Antuono, rappresenta il primo importante passo verso il riassetto della governance regionale, in chiave di maggiore efficienza ed efficacia operativa e di contenimento dei costi. L'esponente del PSI ha inoltre evidenziato come l'individuazione di un organismo pagatore regionale autonomo consenta di assicurare agli operatori agricoli non solo l'istruttoria, ma anche l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti con procedure celeri e trasparenti.